Musica Sono Salvatore Palmieri e ho moderato il tavolo sull'evoluzione multiculturale del gusto. Sono usciti vari aspetti nel nostro tavolo quest'oggi. Abbiamo individuato il problema principale che è quello della conoscenza, conoscenza legata anche all'esperienza. Siamo giunti a una conclusione di massima che è quella di formare prima di tutto i docenti e poi anche gli alunni per avere una società migliore, una società che conosce prima di tutto se stessa e che non ha paura di conoscere altri tipi, altri usi e altri costumi. Education, dalla famiglia alla scuola, l'importanza dell'educazione alimentare e multiculturale. Made on Planet Earth, marchio che certifici la composizione di un piatto etnico con materie prime di qualità e di provenienza italiane. Educational Cartoon, come linguaggio immediato, efficace e divertente. Vogliamo realizzare matching B2B, ovvero creare conti tra chi produce materie prime di qualità e chi realizza cibo e piatti tipici etnici. Placement, un festival brand delle culture e delle tradizioni alimentari popolari e evolutive. La pizza per me è una cosa molto bella perché quando torno a casa mia in Burkina Faso le mie sorelle e i mipotini vogliono portarmi a mangiare la pizza in Burkina Faso e poi ha portato a conoscere cosa vuol dire mangiare italiano, spaghetti, adesso sono anche piatti che trovo ovunque nel mondo e racconta l'Italia, racconta l'incontro e racconta la possibilità e l'opportunità che può essere il cibo per l'integrazione. L'integrazione o l'interazione sono le condizioni necessarie perché partiamo da ciò che è sano, da ciò che è italiano, per poi innovare e creare un cibo che possa essere consumato così com'è. Grazie a tutti!